buongiorno eccoci qua stamattina per presentarvi un'attività che si svolgerà il 19 20 21 di agosto in Val Chiusella sono qua con Greta delle erbe di brillor Greta che racconti cosa sono le erbe di brillor ciao a tutti allora le erbe di brillor sono un grandissimo sogno noi con le erbe a differenza di altre aziende agricole quali noi siamo non facciamo ortofrutta non facciamo tisane facciamo detersivi e vi insegneremo a farli durante questi tre giorni in realtà questi tre giorni avranno una preeminenza di quello che è un corso che farà Anna Lisa e Anna Lisa vuoi raccontarci cosa faremo insieme allora certo io mi occupo di permacultura di agricoltura naturale agricoltura sinergica e quindi ti ringrazio perché mi avete invitata a partecipare a questo evento bellissimo su questo in questo posto meraviglioso sul lago di Alici superiore quindi già il posto è fantastico andremo a osservare le aiuole di erbe aromatiche che ci sono già andremo a vedere quali sono le basi dell'agricoltura naturale della progettazione in permacultura e come poter ancora rendere più bello questo luogo magari lavorando anche sui margini lavoreremo sulle siepi lavoreremo sulle gilde insomma su tutto ciò che fa di questo luogo sicuramente un'azienda agricola particolare per renderla ancora più particolare per questa unione con la permacultura quindi non ci resta che aspettarvi per iscriversi Greta che cosa devono fare allora per iscriversi potete scrivere alla nostra mail che è info chiocciola leerbedibrillor.com leerbe con due attaccate oppure scrivere a me direttamente al numero 347 2585 701 su whatsapp meglio ma va bene anche se mi chiamate direttamente ok ma tanto poi metteremo questo video su tutti i nostri canali social quindi o scrivete a Greta se non trovate il suo numero non ricordate potete scrivere anche a me lisa permacultura comunità lisa rolpo chiocciola gmail.com vi aspettiamo sarà sicuramente un momento particolare c'è la possibilità anche di soggiornare vero di dormire lì presto di voi la vostra struttura bellissima l'ho vista sul lago un momento anche una vacanza oltre che un corso è un'attività anche ci sarà un laboratorio in cui potranno proprio imparare a realizzare un un piccolo prodotto no di quelli che fate voi assolutamente sarà un momento dove useremo i nostri estratti e con questi estratti faremo una composizione di quelle che sono le ricette base sia per i detergenti della casa che volendo possono essere usati anche per la persona in modo che con la bc poi uno possa comporre quello che vuole a casa e poi naturalmente si possono comprare tutti i prodotti che avete in laboratorio quindi io sono contentissima non vedo l'ora e penso anche te Greta quindi assolutamente ciao ciao ciao